C'è un numero ufficiale che più di tutto smentisce problemi e limitazioni sulle corse per le vie del mare che a partire da questo mese di aprile faciliteranno i collegamenti tra il comune capoluogo e la costiera amalfitana. A fronte del massimo picco di approdi registrati lo scorso anno di 154 ad Amalfi, quest'anno ne sono stati autorizzati 168 di più e nonostante un'attenzione maggiore alla sicurezza che impone un limite di 5 minuti di intervallo tra un a Prodo e l'altro, anche a salvaguardia dei bagnanti oltre che dei turisti che si servono dei traghetti per muoversi. Sembrano insomma polemiche inutili e strumentali quelle sollevate da una compagnia di navigazione che aveva accusato la regione e la Capitaneria di Porto di non aver autorizzato in tempo i collegamenti. A chiarire la situazione ai nostri microfoni anche il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Attilio Maria Daconto. Comandante si è parlato di ritardi sull'attivazione delle vie del mare così non è tutto a posto, si parte? Assolutamente sì, dal primo aprile la regione ha emanato il decreto sulla scorta delle autorizzazioni che rilascia la regione sulla base di un parere che si limita soltanto alla sicurezza della navigazione portuale che rilasciamo noi. La regione quindi sulla scorta anche di questo nostro parere ha rilasciato le autorizzazioni emanate appunto con un loro decreto. A proposito della sicurezza la Capitaneria ha voluto regolamentare meglio gli attracchi e le partenze disponendo cinque minuti di differenza tra ogni arrivo? Sì, diciamo che ha disciplinato in maniera più organica e più accorta la movimentazione delle unità all'interno degli specchi portuali che sono ridotti e quindi per consentire lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri in assoluta sicurezza senza che si possa oppure formare una calca oppure evitare la calca all'imbarco. Comandante invece per quanto riguarda Positano dove sono ancora in corso i lavori al pontile? I lavori al pontile ancora alla regione perché purtroppo nelle ultime due mareggiate che ci sono state i pontili di Positano sono completamente stati divelti. Quindi ora la regione sta effettuando i lavori, si spera per maggio che una porzione seppur ridotta del pontile possa essere operativa tale da consentire poi l'ormeggio delle unità.